Se qualcuno avesse avuto il dubbio se il calciatore Dusan Vlaovic per recarsi a firmare il contratto con la Juventus avesse violato o meno la quarantena, da oggi sappiamo che la risposta è sì. Il sospetto c'era ma a scansare l'accusa di eccesso di malizia è stata la risposta dell'assessore regionale alla salute Simone Bezzini a un'interrogazione di Fratelli d'Italia in consiglio regionale. L'azienda Asla Toscana Centro ha effettuato delle verifiche per comprendere se erano pervenute istanze di trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento, non sembrerebbero essere arrivate all'Asla istanze di questa natura. L'ex calciatore della Fiorentina appena passato alla Juventus Dusan Vlaovic aveva assaltato Cagliari Fiorentina del 23 gennaio per positività al Covid e almeno ufficialmente non sarebbe stato ancora negativo il 28 gennaio giorno del viaggio a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus dunque avrebbe violato le norme Covid. Il Dipartimento di Prevenzione ha fatto ciò che avrebbe fatto di fronte ad ogni cittadino ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria e sarà l'autorità giudiziaria a fare gli accertamenti che essa riterrà opportuno fare. Da qui in poi ovviamente poi c'è anche un tema di riservo essendo informazioni che attengono attività dell'autorità giudiziaria da una parte ma anche informazioni di natura sanitaria e dobbiamo rispettare anche gli elementi della privacy. La vicenda Vlaovic è diventata un caso che ha suscitato l'ira dei tifosi viola, rivali da sempre dei bianconeri e come se non bastasse la presunta violazione dell'enorme Covid ha aggiunto benzina sul fuoco. E dopo cinque giorni e mezzo di isolamento il signor Vlaovic ha ritenuto possibile per lui violare la quarantena e recarsi in auto, non si sa con chi, con altri cittadini che poi dopo a seguito di un contatto con un positivo sono rimasti a giro liberi per la nostra regione e se ne è andato beatamente a Torino a firmare il contratto con la Juventus, a farsi le foto in mezzo ai tifosi, ad abbracciare le persone che sono tutti, mi sembra, protocolli previsti dalla quarantena Covid. Quindi la regione toscana, l'ASL Toscana Centro ha trasmesso tutti questi dati all'autorità giudiziaria. Mi aspetto che venga trattato come un normale cittadino. E queste regole vengano applicate anche a chi di professione non fa l'avvocato, l'ortolano o il muratore ma fa il carciatore da Juventus.